E allora buongiorno a tutti. Iniziamo quest'ultima tranche di questo convegno che ci ha regalato davvero tante emozioni. Stamattina lo avete già conosciuto ieri sera, insomma poi Luca è una colonna dell'associazione, delle dirette, del gruppo, insomma quindi Luca è conosciuto e lo conoscete tutti però è giusto presentarlo in maniera ufficiale. Luca Garbin è docente in un istituto alberghiero ma da dieci anni si dedica con fede a insegnare la tecnica della registrazione delle voci dei trapassati. Istruttore di mindfulness, operatore di cristalloterapia e sofrologia, passe spirituale o fluidoterapia di cui avete sentito ampiamente parlare Leila. Lui stamattina ci parlerà della medianità nella quotidianità, come capire il linguaggio degli spiriti nel vivere di ogni giorno i segnali dall'aldilà. Grazie. Buongiorno. No, non funzionare. Penso che mi sentiate poi la voce con l'accentone veneto, penso che sia inconfondibile. Allora, innanzitutto grazie per essere qui con me questa mattina. Non si sente? Devo mangiare il microfono? No. Ok. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui. Spero che questi giorni di esperienza vi abbiano arricchito. Questa mattina, di solito ogni anno, porto sempre il tema della metafonia, che poi è carino, però a volte è anche bello portare qualcosa di nuovo, non soffermarci su dei campi determinati. Quindi no, è bello essere ricercatori, provare, sperimentare e vedere tante cose. Quest'anno vi porto a una tematica interessante perché mi sono reso conto che gli spiriti non solo comunicano attraverso i medium e sensitivi. Loro sono sempre in contatto con noi. quindi ogni persona che avrete incontrato in questi giorni, parlato, quella persona che avete seduto accanto a voi, niente è un caso. Quindi sembra quasi che delle mani invisibili facciano sì che le cose si incrocino per far accadere determinati eventi, incontri, persone che possono indirizzarvi su alcune scelte di vita, darvi il giusto intuito su alcune scelte di vita. Siete d'accordo su questo? Ok? Voglio un po' più attivi stamattina, ieri sera eravate stanchi. Quindi è un po' un dialogo che si cerca di fare e di capire. È stato fatto un test sul gruppo Lo specchio dell'anima dove hanno risposto più di 100 persone a determinate domande e quelle determinate domande hanno permesso di raccogliere dei dati che poi vi farò vedere in modo leggero, però per farvi capire come si interagisce, che cosa si può ottenere e il significato di alcune cose. Io l'ho chiamata la medianità, nella quotidianità, perché dal mio punto di vista, mio, personale, per me la medianità è una qualità dote, talento, dono non mi piace la parola. È una qualità che tutti abbiamo. Quindi abbiamo da una nascita e in alcune persone esce spontanea, in alcune persone si manifesta dopo, in altre persone resta l'attente, però quella parte di intuito, di vedere qualcosa con la coda dell'occhio, di sentirsi chiamare per nome appena svegli, di vedere qualcosa per strada che richiama la vostra attenzione, fa parte di una comunicazione di qualcosa con un ente. La parola dono a me non piace perché sembra quasi che tu sia un prediletto del cielo, che hai questo dono e ti fa sentire un po' superiore rispetto agli altri, che non è giusto e a me non piace, però questa è la mia definizione personale. Quindi per me siete tutti medium. C'è una cosa che accomuna il dolore e la medianità. Diciamo che la medianità, il risveglio spirituale, che tutti chiamano come adesso fosse qualcosa di mistico. La coincidenza che accade fra tutte queste persone che rispecchiano la medianità è il dolore. Sembra che il dolore o un evento tragico nella loro vita risvegli questo senso dormiente. Ok? Fin qua? Se avete domande mi fermate, eh? Allora, chi sono? Grazie per la presentazione di Mirelle. Io sono un insegnante di scuola alberghiera. Ok? Insegno cucina e pasticceria e panetteria. Oggi è la giornata dei panettieri. Se deve venire il panettiere riconoscetelo, ok? Io sogno una scuola da ragazzini di 14-17 anni e gli insegno una professione. Anche la capacità di entrare in empatia con le persone e comprendere quello che vi sto spiegando oggi è utile anche nelle relazioni interpersonali. Perché se partiamo dal presupposto che tutti siamo un medium, comunichiamo con qualcosa e quelle vibrazioni che percepiamo possono essere interpretate quando siamo a contatto con una persona. Sentiamo se la persona sta poco bene, sta poco male. È un po' anche leggere, no? Intelligente, saper leggere dentro le persone. E questo ti può aiutare a comprendere le persone. Pensate che c'erano aziende dove c'era proprio una persona che era un sensitivo medium che si occupava anche delle risorse umane dove, in base alle foto e con il colloquio quella persona, riusciva a capire se quella persona poteva essere in utilità per l'azienda oppure no. Anche ieri ho conosciuto una persona, Claudio, che è qui, che aveva anche lui questa specie di capacità nelle aziende. Quindi la medianità fa parte delle nostre vite, solo che spesso ci fa paura. Ho cominciato questo cammino 12 anni fa, però non c'è stato un motivo specifico. È come se fosse arrivata una chiamata e ci si mette all'opera. Io mi sono occupato di metafonia da dieci anni fa. Abitavo in Spagna e le frasi che registravo ambientali erano italiane. Quindi non poteva essere una radio che passava, un aereo, una nave, un mercantile, una comunicazione fra radiomatori. Quindi c'erano anche registrazioni ambientali, voci tenute dalla camera da letto del bambino dove dormiva e c'erano voci in italiano, chiarissime, che erano particolari, voci di bambini, come se dei bambini stessero accanto a mio figlio. Quindi queste cose, questi accadimenti che sono accaduti poi nella vita, mi hanno fatto riflettere. Vi dico questo perché con una metafonia ottenuta dieci anni fa, venne fuori una parola, conoscerai baci. Io non so chi era, non sapevo allora chi era baci, quindi l'ho messo da parte. Poi con il tempo scoprì che era, esisteva realmente questo baci, ma abitavo in Spagna allora. Io dicevo, non c'è nessuno, non c'è nessun povero Cristo. A talità ho conosciuto una persona, grazie a un'altra. E grazie a un'altra io con Marcello Baci di Grosseto ho cenato tre volte a tavola assieme, con la moglie. Quindi la serie di coincidenze, di messaggi che arrivano cambiano il nostro stile di vita. Il caso non esiste. L'elaborazione del lutto è importante? Sicuramente sì. Il dolore è sì una porta che apre il mondo della comunicazione con le sfere spirituali. Però può essere anche una barriera. Quindi il lutto è una cosa che va compresa, elaborata, con cui poi si convive. Nessuno toglierà il vostro dolore. Però quella convivenza con quel dolore è come se ci fosse una chiave invisibile nelle vostre tasche che riesca ad aprire questa porta di connessione, di comunicazione. Allora, i segni nella storia. Per farvi un po' un trascursus dei segni nella storia, abbiamo segni nella Bibbia. Nella Bibbia sono indicati i sogni del Faraone, attraverso i segni mi riconoscerai e cose del genere. Lo stesso vale nel Vangelo. Quindi questi sono testi sacri molto importanti. Nel Vangelo Gesù diceva attraverso i segni mi riconoscerai, i segni dei tempi. Quindi già in testi sacri, antichi, troviamo delle dimostrazioni in cui si tenevano in considerazione i sogni. Nell'antica Grecia c'era l'oracolo di Delfi, o Delfo, non ricordo, Delfi dovrebbe essere, Delfi Colaino, l'oracolo di Delfi, dove c'erano le Sibille e le persone andavano per ricevere messaggi che poi andavano interpretati, che li guidavano in alcune scelte della loro vita. Però abbiamo anche i segni nella storia. Vediamo che nella parte cinese orientale esistono i Ching, che sono un oracolo di divinazione, ok? E permettono, grazie a questi messaggi di essere guidati, darti delle indicazioni per la tua vita. Non ti dicono mai cosa fare i segni. Attenzione! Perché interagirebbero con il nostro libero arbitrio. Noi siamo responsabili delle nostre scelte, ma se io penso e ragiono come medium, tutti i miei pensieri, l'80% dei miei pensieri sono influenzati. La decisione finale che prendo mi fa capire e prende la mia responsabilità. Per esempio, se ho una persona che mi ha trattato male e sono anni che non parlo con questa persona, all'improvviso all'interno di me si muove qualcosa. Ci sono due entità. C'è uno che ti può dire, perdona, lascia andare, non ti preoccupare. C'è un'altra entità che ti dice, ma cosa perdoni a fare? Non perdonare, lascia stare, anzi, richiamala per insultarla ancora di più. Quindi, questi due consiglieri che noi abbiamo, in base alla decisione che noi prendiamo, potremmo fare un passo avanti o un passo indietro nella scala evolutiva. Vogliamo fare un viaggio? Non sappiamo dove andare? Magari vogliamo andare a Gardaland, non dico New York, non dico posti più vicini, però vogliamo andare a Gardaland, non sappiamo se è una cosa giusta oppure no. Questo è un esempio banalissimo che vi faccio, ok? Non è che rispecchia la spiritualità, però magari passa un ragazzino con una maglietta di Gardaland. Questi sono dei piccoli segnali che vengono interpretati. L'astrologia, i segni dei pianeti, ok? Una volta gli antichi, grazie ai pianeti, riuscivano a capire un po' la situazione attuale, alcuni segnali che potevano dare. Pensate che i divini, no i divini, scusate, i reali, venivano consigliati da persone che consultavano presunti oracoli e prendevano per loro delle decisioni, che alcune poi sono state particolarmente effettive e reali. La cosa più bella fra tutte le persone che hanno preso, percepito segnali è San Francesco d'Assisi. Come è cominciata la storia di San Francesco? San Francesco aveva una forte crisi emozionale, una forte crisi di vita, non sapeva cosa fare e si rivolse ad un testo molto sacro, che per lui era il Vangelo. Quindi interrogò questo libro sacro e aprendolo a caso, la domanda che fece Francesco, dice cosa vuoi che faccia della mia vita? Apri il Vangelo a caso e trovò una risposta, lascia tutto quello che hai e seguimi. Lo mise in pratica per filo e per segno e quindi cambiò la vita sua, quella degli altri e di intere nazioni, con i suoi gesti e seguendo alla lettera quello che per lui era una comunicazione importante. Interpretare i segni anche, vi posso dire che provate a immaginare, non è neanche tanto tempo fa, 50 anni fa, 60 anni fa, i nostri anziani bastava che guardassero il cielo e capivano se sarebbe piovuto, se avesse grandinato, se faceva freddo, se sarebbe stato un inverno rigido, se avesse stato un'estate calda, però riuscivano a capire queste cose guardando, scrutando la natura, quindi il rapporto era diverso. Adesso se io apro l'app di Meteo, dovrei andare in giro con l'ombrella tutti i giorni e non piove mai, danno 10%, 20%, quindi non sanno neanche loro interpretare i segni del tempo, però i nostri amici anziani, ricordo mia mamma che quando aveva il callo che le faceva male pioveva, quindi era una forma particolare di interpretare ciò che attorno ci circondava. Proviamo a pensare anche il comportamento di alcuni animali migratori e questo è sensibile per le persone che hanno una sensibilità, però l'importante è guardare e mettersi in ascolto. Allora, l'universo ci parla? Secondo voi sì o no? Sì o no? Sì. Ok. Ho l'impronta scolastica, vi chiedo scusa però, non mi sembra niente della scuola, quindi avete sentito? Allora, l'universo ci parla, ci comunica qualcosa, ci dà dei segnali. Chi comunica con noi attraverso questi segnali? Io non ho la presunzione di dirvi chi è. So solo dirvi che qualcosa c'è effettivamente. Con la metafonia cos'è accaduto? Perché tanti mi chiedono, in questi contatti di anni che ho fatto sedute spiritiche, tavoli in Uija, ne ho visti di cose. Brutte mai. Però quello che ti fa fare la riflessione, anche oggi, dopo tornare a casa i contatti, è che ci vedono e ci sentono. E un dubbio del 50%, devo mantenerlo, mi dice che qualcosa c'è oltre la vita. Però a volte arriva un momento della nostra vita che ci sentiamo persi, smarriti. Questo avviene normalmente ai 40 anni, avviene quando c'è un lutto, una perdita. Esistono delle domande che spesso non possiamo dare una risposta o non troviamo una risposta. E diventa una cosa che ci consuma dentro lentamente. Vorremmo che ci fosse sempre qualcuno che ci dicesse cosa fare, come fare. E quindi spesso ci si sente solo. Una persona risponde alle nostre problematiche con il loro vissuto, con il suo vissuto di vita. Quindi avremo una risposta che sarà sempre influenzata dalla esperienza di vita della persona che abbiamo davanti. Però a volte stare da soli e cercare di capire quello che ci accade è curioso, perché se ci mettiamo realmente in ascolto qualcuno ci manda costantemente segnali. Quando andrete a casa oggi, dopo questo piccolo incontro con noi, prestate più attenzione ai segnali. Allora, uno fra i tanti segnali sono i sogni. Esiste anche una particolare medianità che si chiama medianità onirica. Sogni che ci possono... Mi sto parlando di sogni premonitori, ok? Perché la maggior parte dei sogni premonitori sono sempre sfighe. Ne abbiamo di sfige ultimamente, quindi meglio non sognare così. Però i sogni premonitori sono delle cose un po' diverse. Io sto parlando di linguaggio dei sogni. Esisteva? Una volta, e esiste tuttora, è una tecnica di interpretazione dei sogni che si chiamava la smorfia, che si giocava all'otto, no? Ed era interessante perché quei sogni, spesso legati a dei numeri, davano un significato a quello che avevamo sognato. Io mi ricordo che se sognavo denti, mia mamma si prendeva il valium perché significava morte di parenti. Cioè, era una tragedia assoluta se sognavo morti. Mi ricordo ancora, sulle sfighi di mia mamma, carne, sangue, pesce, denti, era tutta malattia, sfiga, disgrazia. Cioè, era impossibile. Era una roba. No, no, infatti tante volte stavo zitto e non dicevo niente. Poi, io avevo anche una mamma molto superstiziosa, quindi con sale e con l'olio era una tragedia. E quando io ho cominciato a fare la scuola berghiera e dove buttavo per dare il sale e mi cadeva l'olio, dicevo, morirò. Ok, è impossibile. Quindi, però queste credenze che, popolari, hanno delle leggende, no? Perché si sapeva, per esempio, che i romani avevano l'abitudine di dare il sale quando si stringevano la mano. Salario deriva dal romano perché si pagava in sale una volta. Adesso il governo sarebbe contento di pagarci in sale. Però ci sarebbe un chiletto di sale grosso, sale fino, siamo a posto. Però ci sono delle motivazioni. L'olio è una cosa sacra. Anche l'olio, per esempio, nella cresima che si fa, si viene unti con l'olio. Quindi avevano delle tradizioni, delle origini popolari che si tramandavano. Ok? Non parliamo degli specchi rotti che mia mamma li nascondeva nei comodini perché non si vedessero. Quindi quando mia mamma è trapassata, non so, c'era l'altare della sfiga, c'era, non lo so. Quindi sono cose interessanti da capire. Perché questo? Quindi capire anche il significato di quello che sta arrivando. Che cosa mi vuole dire quel segno che sto percependo? I sogni sono una porta. Capire quindi che il sogno che ho fatto, che cosa significa per me? Ho sognato un pipistrello. Che cosa vuol dire un pipistrello? Batman? Mi trasformo in uomo ragno? Spiderman? Pipistrello? Quando vediamo un animale, grazie a Lisa e i segni che ha parlato, bisogna capire, vedere le caratteristiche di questo animale. Cosa fa il pipistrello? Vede nel buio. Significa che io ho la capacità di vedere situazioni che altri non vedono. Ok? Ascolta, si guida con gli ultrasuoni. Capire l'animale che cosa vuol dire? Se sogno denti, per esempio, che si staccano, un dente fa parte della struttura ossea. Perdere un dente è come perdere parte di una struttura ossea, di un radicamento, paura di perdere qualcosa, paura di perdere quella parte che mi tiene saldo al suolo, ok? Che mi dà quella sicurezza, quella struttura che mi tiene. Quindi ci sono tanti sogni che possono essere di aiuto. Quello che vi consiglio io è di dormire accanto a voi un pezzettino di carta, perché di solito i sogni nell'arco della giornata ci si dimentica. E poi arriva nel pomeriggio a un certo punto, state facendo qualcosa di strano, ma cavolo ho fatto sto sogno io stamattina? Vi ritorna in mente nel pomeriggio. Prendete atto di quel sogno. Cominciate a tenere un diario dei segni e dei sogni. E' bello, sembra anche un titolo di un libro. Il diario dei segni e dei sogni, dove scrivete quello che vi accade durante la giornata, dopo aver chiesto il segno, ok? Andiamo avanti che se no vi tengo addormentati. Ok. Sesto senso è medianità. Siamo tutti sensitivi? Siamo tutti medium? Vediamo se sapete la differenza. Perché tanti avete l'abitudine di mettere in minestrone tutto quanto. Sensitivi, è medium. Secondo voi? Che cos'è? Qual è la piccola differenza? C'è qualcuno che la sa? A pagina 25 del libro c'è scritto, eh? Come scuola. Prova. sensitivi. Ok. Ci sta come sensazione. Allora, i sensitivi possono fare quello che è una lettura delle energie che avete. Quindi siamo tutti sensitivi. Se noi andiamo a trovare un amico depresso, ok? Questo amico depresso che sentimenti vi trasmette, il depresso ha la capacità di trasmettere sensazioni pesanti, atmosfera pesante, qualsiasi cosa che si cerca di fare. Scusatemi se sbaglio in congiuntivi, ma sono veneto. In veneto i congiuntivi non sono molto riconosciuti. Quindi un sensitivo cosa fa? Può percepire questi stati d'animo delle persone, degli animali, degli ambienti, delle stanze, dei luoghi, ok? Quindi ha questa capacità. Siamo tutti sensitivi? Sì. Perché questa è la parte iniziale. se nostra mamma ci vedeva tristi, anche se non lo manifestavamo, lei lo sapeva che eravamo tristi. Se andavamo male a scuola, la mamma sapeva, ci vedeva, anche se eravamo capaci di dissimularlo. Intelligente è una parola bellissima che significa saper leggere dentro, ok? E sapere percepire e capire le persone è una dote che tutti possediamo. Dobbiamo imparare a guardare le persone negli occhi e saper comunicare verbalmente. Purtroppo la società di oggi ad alcuni mezzi tecnologici che ci hanno aiutato ad avanzare e ad essere meno soli, in certi punti di vista della comunicazione, della vita, hanno tagliato alcuni ponti. quindi dire, per esempio, ti amo una persona per scritto, è più facile che dirlo a voce. Quindi questo blocco di sentimenti a volte è difficile interpretare una persona da uno scritto. Però non è impossibile. Alan Kardec è stato l'unico a fare una classificazione di spiriti. E come faceva? In base agli scritti che arrivavano. Quindi c'erano alcuni spiriti che comunicavano con noi in modo intelligente, altri in modo educato, altri in modo educato e basta perché intelligente non c'era niente, spiriti arrabbiati, spiriti ignoranti. In base a quello che arrivava di comunicazione scritta sapeva dare una classificazione. Questa cosa dobbiamo imparare anche noi. Ci sono persone che ci parlano in maniera elegante, in maniera saccente, in maniera giocosa, in maniera triste. Sono tutti stati di vibrazione. Noi siamo antenne. Abbiamo la capacità di ricevere e percepire queste emozioni. Per esempio, due persone che si amano parlano a bassa voce. Giusto? Si bisbigliano, si dicono le cose. Perché si dice che i loro cuori sono vicini. Due persone che litigano, cosa fanno? Perché i loro cuori sono lontani. Quindi noi dobbiamo imparare a parlare a bassa voce al cuore delle persone. Tutti dicono, ma perché non ti ami? Perché non ami? Beh, amati di più. Sono frasi che sono sentite, risentite, rimacinate tante volte. Però comprendere le persone che abbiamo davanti, che alcune volte sono gli specchi di noi stessi, ciò che non ci piace in noi, negli altri, è un difetto che abbiamo noi da costruire. Quindi la sensitività serve innanzitutto a comprendere questa tipologia di segnaletica che arriva. Vedere le altre persone, saper guardare. A me piace tantissimo sedermi, 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 sedermi nelle stazioni ferroviarie, negli autobus e vedere le persone che passano. Pensate che ogni persona ha una storia, ha un vissuto, è un libro. Ogni persona ha il suo dolore, le sue disgrazie, le morti che ha in famiglia e non sappiamo niente. Magari c'è una persona che passa, sta sorridendo, è felice e magari ha una sfortuna che è incredibile. E noi vediamo queste cose. Fate questo esercizio, no? Rimanete in silenzio e ascoltate i dialoghi delle persone. Entrate in ascensore, magari, state zitti e ascoltate i dialoghi delle persone. Sentite quello che dicono. Lì è un po' un sviluppo di sensitività, perché la sensitività è anche mettersi in ascolto. Siamo tutti medium? Sì. La medianità, come ha detto la nostra amica, è la capacità di comunicare, di percepire qualcosa e qualcuno che lascia un messaggio. Quindi, la sensitività ci fa percepire delle sensazioni, delle energie. Medium è come capire se c'è un messaggio o qualcosa, ok? Siamo tutti sensitivi come avere un cellulare e vediamo se a campo o non a campo. Essere medium è come sapere la capacità di comporre un numero e chiamare l'altra persona, ok? Considerate che noi siamo sempre, devo correre, siamo sempre circondati da persone, ok? Non mi piace chiamare l'entità, entità non mi piace, spiriti non mi piace perché sembra una bottiglia di vodka, che dico che ti... Spirito è alcol. Quindi abbiamo delle persone, degli amici che sono stati accanto a noi, che erano accanto a noi, che ci hanno amato e fanno parte di vite passate, guide, angeli, potete chiamarli tutti i modi che volete, gnomi, puffi, elfi, unicorni, quello che volete. Perché però c'è un'energia, due energie accanto a noi che ci vogliono bene e vogliono il bene per noi, ok? Allora, le coincidenze, la parola coincidenza è, siamo abituati ai viaggi, no? Quindi prendo un treno e so che poi ne devo prendere un altro. La coincidenza è sempre una cosa casuale. Coincidenza è, mamma mia, c'è Giovanna che saranno quattro anni che non la vedo? Sembra Natalino Banasso quando parlo. Non mi aveva stata onza, ok? Quindi, sono quattro anni che non vedo Giovanna. Giro l'angolo e trovo Giovanna davanti. Quella è una coincidenza, ok? Segno, sempre con Giovanna. Mamma mia, sono quattro anni che ho litigato con Giovanna, non so più cosa fare. Scendo la tv e c'è la canzone di Tiziano Ferro, Perdona. Questo è un messaggio per me. Cosa devo fare con Giovanna? Ecco che, da la rete magnifica che ha l'universo, permette questa connessione, mi dà un messaggio per migliorare me stesso. Quella canzone mi fa capire tante cose. Guardate che le canzoni, con cui ieri sera Cesare calcava tantissimo, sono poesie. E le poesie le scrivono gli artisti, i poeti, gli ispirati. Quindi, sono forme di messaggio anche quelle. Segno, il segno invece, scusate ma senza vodka non vado avanti. Allora, il segno invece è come un indizio, un suggerimento nel quale possiamo dedurre un'informazione. Un significato. L'universo dà continuamente segni nelle nostre vite e i segni ci sono per tutto e per tutti. Quindi, allora, simboli, attenzione, ci sono anche, caldo? Allora, ci sono simboli che possono giungere a noi. Per esempio, sono in crisi nella mia vita, vorrei fare qualcosa di olistico, non so cosa fare. Mentre guido, mamma aiutami, papà aiutami, Marco aiutami, ok? Guido, e passo per una palestra dove c'è il simbolo yin e yang. Quel simbolo significa, fermati, forse quel posto lì, questa meditazione, leggere un libro, può darti le risposte che tu cerchi. Ok? Magari, faccio anche un segno anche brutto adesso, vi dico, magari dico, mi manca tanto mio figlio, non so cosa fare. Parlate con voi stessi, però non parlate con l'amica. A casa si parla da soli, ok? Non è che... E non solo a casa. In macchina c'è, la scusa si può dire, c'è viva voce, sto parlando in macchina con qualcuno. Ok? Dite che state usando la viva voce. Però, per esempio, non sento più mio figlio, mi manca, robe varie. Ci sono persone che hanno bisogno di andare al cimitero, ok? Perché fa bene a volte, no? E quindi, magari, passate davanti o vedete un funerale che sta passando. Certo, vi porto a brutti ricordi, ma allo stesso tempo trasmette in voi quella sensazione di, se vi fa bene, di andare al cimitero o di raccogliarvi in preghiera. Sono segni che anche a volte vanno capiti e interpretati. I medium e i sensitivi, per me, sono traduttori, sono interpreti di questi messaggi e segnali che arrivano. Per esempio, vedo una croce, croce di solito rappresenta la passione di Cristo, sofferenza, morte e disgrazia, ok? Però, può essere anche un significato bivalente, può essere anche speranza, vita, fede. In base a quello che chiedete, dovete voi cercare di dare la giusta intuizione, ma i segnali c'è. Quindi, un telefono, il telefono a un certo punto smette di funzionare mentre stavo chiamando un amico. Perché? Cade la linea. Perché? Magari, continuando quella conversazione, sarebbe finita in una litigata. Oppure, l'altra persona non aveva voglia di parlare e si è conclusa la comunicazione. A me piace pensare che a tutto c'è un perché. Sia nelle cose belle, sia nelle cose brutte. Siamo noi che diamo il giudizio cose belle e cose brutte. Dobbiamo classificarla come esperienza, ok? Quindi, se un ragazzo di scuola mi fa un piatto di pasta al pomodoro che fa schifo, il primo lo farà che fa schifo, ma il secondo, guarda, sei qui per imparare. Noi siamo qui per imparare. Non esiste giusto o sbagliato. Ho fatto un'esperienza e ho sbagliato a fare la pasta. È un'esperienza che mi insegna che devo correggere determinate situazioni. I simboli sono stra-importanti per questo. Chi crea i segni? Eh, bella domanda. La divina provvedenza? Il revival degli angeli che sono diventati di moda negli ultimi anni? I nostri cari che sono della dimensione dello spirito? E dipende da voi che rapporto che avete? Io quando sento persone che hanno delle guide importanti, io penso che quella determinata guida, quel determinato nome, sia importante per quella persona. Perché è un modo di riconoscersi. Per esempio, c'è un medium famoso, una guida famosa che si chiamava Silver Birch, non ho in inglese, mi fa schifo, si chiamava Aquila Grigia, che era una guida molto famosa di un medium inglese. E si definiva come sciamano. Questo medium ha scritto tantissimi libri interessanti, nel spiritualismo inglese. Quando questo medium è deceduto, gli continuatori della chiesa spiritista hanno contattato nuovamente questa guida. E questa guida gli ha detto, guardate che io non sono uno sciamano. Però il medium dava tranquillità e serenità a parlare con me. Quindi è importante che la persona stia bene, giusto? Quindi anche gli spiriti devono avere un rapporto con voi nel stare bene. Le nostre vibrazioni sono come loro ci riconoscono. Se una mattina ascoltiamo una canzone della Pausini, avremo una vibrazione. Se una mattina ascoltiamo un tango, avremo una vibrazione. Quanti di voi ascoltavano la musica in macchina, guidano, guardano la strada, piangono in macchina, soffrono, a volte fanno dei passaggi dei chilometri senza rendersi conto dei chilometri che hanno fatto. Perché la mente va via, viaggia, si dissocia, si distacca alcune volte. E lì in quei momenti conversate con qualcuno. Durano pochi secondi, pochi atimi, perché c'è l'attenzione della guida. Però anche lì c'è una comunicazione con loro. E' utilissimo dimostrare che l'universo o qualcuno ci parla e ci guida. Ma è anche importante spiegare il significato del sogno. Altrimenti cosa serve? Ho ricevuto un cuore. Come avete visto in questi giorni. Ok? Cosa significa ricevere il cuore? Trovare un cuore? Un po' ve li spiego. Allora, come sono i segni diretti? Allora, i segni diretti sono quelli che arrivano attraverso le scritte. Cammino per strada, penso a mio figlio Davide, in quel momento che lo penso o nell'arco della giornata, nell'arco della giornata, passo per una strada e vedo una scritta mamma ti amo, ciao Davide, oppure ti amo tanto Davide. Ok? Questi sono segni coincidenti. Questo è un segno che può arrivare. Ok? Attraverso le scritte, attraverso la tv che accendo qualcosa, i segni che arrivano attraverso la radio. Io una volta ero in una forte crisi spirituale perché chi fa queste ricerche, questi approcci con il spirituale ha delle forti crisi durante gli anni. Mistiche, ok? Non che vedo i santi, mistiche nel senso che ti fai tante domande. E mi ricordo che un giorno tornando a casa non ascoltavo mai la radio e c'era la canzone Strada Facendo. Mi pare che si intitola così, non mi ricordo. Strada Facendo Capirai. Quindi, anche questo è interessante capirlo. I segni che arrivano attraverso la tv, non un grande fratello, però, nell'isola dei famosi, però magari ci sono delle... state litigando tra marito e moglie, ok? per una decisione che dovete prendere. Accendete la web, la tv e c'è due persone che stanno discutendo dello stesso argomento che state affrontando voi. Questo succede anche per strada. Mia mamma si chiamava Teresa, ok? A volte succede che vado per strada e dico due coglioni, dammi un segno per carità. Sono sincero perché io sono molto grezzo e a volte i segni... Ho bisogno dei segni. Perché se anche uno fa metafonia per se stesso, non ci crede. se te la fanno gli altri ci credi, ma se ce la fai per te stesso, io non ce la faccio. Quindi sono molto esigente e chiedo i segni perché ne ho bisogno se no non vado avanti. Non ho la macchina del Papa che va da Dio e consuma nostia. Quindi ho bisogno di questi segni. Quello che voglio dirvi è che quel giorno da un ristorante esce una signora che chiama una signora dall'altra parte della strada. Come si chiamava? In quel momento istante in cui chiese un segnale a mia mamma. Quindi ho capito che c'è. E questa è la bellezza di questa magia che ci circonda. Ok? Attraverso il web. Adesso c'è Facebook, si accende un video, ci sono questi post meravigliosi che vengono pubblicati con delle frasi che sono inerenti alla nostra vita, inerenti a quello che stiamo pensando. segni di provenienza sconosciuta. Telefono che si accende, stranamente. La TV che si accende, la luce che sfarfalla in casa. Sono segni di presenza. E mi dicono ma sono solo? Mi state vedendo? Mi state ascoltando? Accade sempre qualcosa che vi dà la conferma. Chiedete e vi sarà dato di se uno con la barba non so di dove era, della Palestina. Ok? Segni attraverso le parole che sono quelle interrelazionali tra due persone. Oppure magari passa qualcuno con una maglietta con scritto ti voglio bene. Sembrano stupidalci. Perché uno potrebbe dire sei un un gorgattone e pensi che tutto il mondo sia sempre inconnesso con te. Bisogna essere razionali. Ok? Mantenere un po' i piedi per terra. Però nei momenti in cui c'è bisogno loro comunicano e insegni con la musica delle canzoni particolari. Magari ascoltiamo una meditazione chiudiamo gli occhi e vediamo chi ci mancava. E voi pensate no l'immaginazione mi manca gli voglio bene. Ma in realtà in quel momento lì quella persona è lì per voi e si fa vedere con un flash il suo profumo il suo odore un rumore io nella metafonia ho sempre se ci sei batti un colpo la famosa frase e ogni tanto nelle metafonie si sente questi colpi che non hanno senso però è un codice segreto che ho con i contatti per capire che ci sono sono segni di presenza. Quali sono i principali segni con cui comunicano i nostri cari? Allora animali possiamo vedere possiamo vedere una farfalla la farfalla è il tipico segnale per eccellenza che la vita continua perché cosa mi ricorda la farfalla? il buco è il buco il bruco si vede che la forza di contatti ieri allora il bruco che si trasforma che muore per un attimo e risorge rinasce sotto un'altra forma la farfalla per eccellenza e il bruco sono animali mistici importanti quante persone vanno per strada pensano il figlio la figlia la mamma chi ha perso e stranamente vedono una farfalla o addirittura farfalle che si appoggiano ma deve essere nel momento in cui state pensando al vostro caro ecco c'è questa magia questa connessione canzoni e suoni sentire profumi e odori magari arrivate a casa a un certo punto c'è in un angolo della casa un profumo di tabacco della pipa di un fiore di un profumo alla mamma piacevano le rose e si sentono profumo di rose stranamente profumo delle rose pensate che è un odore legato alla santità al mistico e percepire l'odore di rosa è come dire che le nostre preghiere siano state accolte e accettate da qualcuno lassù quindi è una conferma che ci viene data quindi i profumi sono molto importanti però bisogna sviluppare gli occhi la vista il tatto il naso anche a pelle possiamo sentirci sfiorare ci viene la pelle d'oca in determinate situazioni ok la sincronicità la sincronicità significa che accade qualcosa nel momento in cui sto pensando alla persona che ho perso ma non solo funziona con la con la comunicazione con la di là certo siamo tutti qui a questo convegno perché vogliamo delle risposte qualcuno tutti abbiamo perso qualcuno in questo convegno ok però a volte la sincronicità è interessante da studiare magari l'orologio si ferma e cosa significa secondo voi non che la batteria sia scaricata secondo voi se un orologio si ferma l'orologio cosa rappresenta il tempo brava fammi il libretto che ti metto 10 allora il tempo è importante quindi se un orologio si ferma è un segnale per me per dire cavolo forse devo rallentare se venendo all'incontro qui avete trovato degli incidenti direte voi ma è normale è la strada però l'incidente cosa fa fa rallentare o fermare quindi se durante la settimana non succede nulla però venendo a un convegno dove si parla di al di là dove sperate il contatto con il vostro caro che avete amato vuol dire rallenta un po' fermati rifletti fai una strada alternativa della tua vita poi abbiamo i sogni come vi ho detto vedere i numeri i numeri hanno dei significati bellissimi io sono un bastardo perché sono scettico e quindi a volte mi piace giocare e mettere alla prova e quando sono arrivato in questo hotel mi hanno dato la stanza 111 e io ho detto non ci posso credere la stanza 111 ma le cose che accadono a volte sono incredibili le targhe numero 333 i numeri doppi magari state camminando anche una cosa divertente camminate siete in autostrada o in strada a un certo punto passano dei camion che hanno dei messaggi pubblicitari che a volte possono avere un giusto senso nella vostra vita quindi vedere cuori vedere cuore il cuore cos'è? il cuore è amore il cuore è vita il cuore è gioia il cuore è passione faccio le cose con il cuore quindi vedere il cuore significa anche ti tocco con il cuore tocco il tuo cuore sento il tuo cuore quindi sì 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 attenzione però trovare ma non cercare sì sì succede succede anche le piume sono importanti e attenzione però perché se io abito in un corso stradale dove sopra c'ho un nido di piccioni è normale che la piuma la trovo arriva novembre c'è freddo tiro fuori il piumone oh guarda una piuma sotto il letto anche lì bisogna essere un po' razionali anche su quello ok per esempio il cuore è fatto nel cibo ci sono alcune forme sì che io apre quel mio punto di vista questo ok per esempio a me piacciono i cuori perfetti perfetti se sono perfetti ci credo ecco questo è bello questo è un segnale questo questo è bellissimo vedi questi sono contenti le monetine anche adesso va di moda trovare tante monetine forse perché i centesimi non li vuole nessuno quindi io credo che le parrocchie abbiano più centesimi che fedeli comunque anche le monetine significano qualcosa le monetine cosa sono per voi? cos'è una moneta? cosa? valore è qualcosa che ha valore ok se trovo una monetina per terra posso pensare ok ho trovato qualcosa che ha valore viene data la trovo io significa che ho valore per quello che sto facendo e dall'assù qualcuno mi sta dicendo guarda che vale se trovate 50 euro sono miei però per il resto però per il resto dovete capire anche questo segnale che è importante quasi finito eh adesso voglio farvi vedere le statistiche del questionario perché un conto è che vi dico le cose io ma è un conto vedere le esperienze delle persone le statistiche a me piacciono no che non sono matematico io insegno a fare i dolci le torte e il pane l'unica cosa che mi interessa sono gli ingredienti e i grammi però le statistiche sono fondamentali perché è un rapporto che si fa con persone anonime che non si sa niente della loro vita niente della loro storia quindi quando pensi al tuo caro i segni li hai subito il 44% ha detto no quindi in base a questo io vi dico guardate potete chiedere al vostro caro dei segnali ma non arriveranno subito però la maggior parte ha detto sì il 28% nell'arco della giornata quindi capite che nel momento in cui io mi metto in ascolto con loro so che qualcosa arriverà non oggi forse domani ma qualcuno ha ascoltato la mia richiesta di aiuto la mia richiesta di essere guidato il mio consiglio poi che tipo di segni ricevo sogno è quella che il 22% sogno piume monetine numeri doppi cuori canzoni suoni sentire profumi odori vedere le farfalle guardate che la percentuale più alta è il sogno ma perché secondo voi il sogno il sogno è la parte più mistica che noi abbiamo perché i contatti avvengono normalmente quando stiamo per addumentarci e quando stiamo per svegliarci sono due fasi fondamentali in cui il corpo si sta rilassando ed è rilassato e siamo ancora a quella fase che oddio mi devo alzare voglio morire no oppure la sera finalmente è arrivata sera quindi lasciate i pesi e in quella piccola fase in cui voi state per prendere il sonno ecco che magari vi sentite chiamare per nome vi viene un flash vi viene un'immagine lì è molto semplice gli animali sono importanti anche perché per esempio ogni animale ha una storia ha un significato non guardate i significati mistici degli animali ok però per esempio vedo uno scoiattolo in un albero mentre sono seduto e sto pensando alla persona che ho amato e in quel momento cade una foglia la foglia cade marcisce e si rigenera e torna a far parte del tutto vedo uno scoiattolo che cosa fa lo scoiattolo è titubante è nervoso mangia di nascosto si avvicina ti guarda ti scruta io posso pensare che c'è qualcuno che viene vicino a me mi scruta mi guarda e rimane con me la foglia è un simbolo molto importante di rinascita di rigenerazione a tanti piacerebbe sviluppare la medianità sì ma l'avete già è questione di entrare in contatto esercitarsi imparate a chiedere segni segni no stancatevi mai di chiedere segni non abbandonate perché loro premiano la perseveranza quindi se io chiedo so che arriverà dovete avere quella fiducia cieca che quel segno arriverà non cercate immagini di santi però nelle fettine di pane da tost questo sì poi credete nello spirito guida sì a poche persone lo invocano lo spirito guida tanti si preoccupano di sapere chi può essere chi possa essere tanti vogliono un nome allora vi faccio una domanda interessante a me hanno fatto fare una riflessione supponiamo che io schiatto oggi no perché se no oggi la mia mazza delle volte supponiamo che muoio e vengo al contatto con il medium e ho mio figlio che vuole parlare con me e ho poco tempo a disposizione devo dirgli dei segnali con cui mi sappia riconoscere brevemente e velocemente devo dirgli anche un messaggio che possa aiutarlo nella sua crescita perché vedo ciò che sta sbagliando e si perde mezz'ora a capire il nome della persona mi puoi dire come ti chiami come faccio sapere che sei tu e poi il tempo finisce quindi tante volte abbiate la conferma e la certezza che qualcuno c'è già accanto a voi in tante religioni nel mondo in tanti credi spirituali nel mondo si crede che c'è questo essere che ci accompagna dall'inizio alla fine del nostro percorso terreno e oltre ma durante questo percorso si aggiungono amici di altre vite di questa vita che ci guidano e ci insegnano queste cose non avete paura non sapete a chi rivolgervi rivolgetevi ai parenti più stretti ai figli che avete alle mammi papà agli amori persi e lì state sicuri che riceverete un segno non impuntatevi con lo spirito guida li rivolgete mai guardate che c'è il 25% di persone che ha detto no io non posso lavorare solo sul bene e dire sì tanti ci credono ma devo lavorare su quelle persone che non credono e non chiedono aiuto perché lì subentra un patto di solitudine di sentirsi soli e abbandonati in questa maniera qua è come un gioco Gesù se non sbaglio disse una volta lasciate che i bambini vengano a me perché per entrare nel mondo dei cieli devi essere un po' come un bambino voce dove ci siete allora dicevo che è interessante perché anche nel Vangelo viene espressa una parte in cui dice lasciate che il regno dei cieli e i bambini vengano a me perché di loro il regno dei cieli giusto ecco essere un po' bambini con questa metodologia di cercare segni e risposte lasciare che ci si sorprenda ancora io nonostante siano tanti anni rimango sorpreso ieri durante i contatti pubblici arrivavano voci sentire un battito cardiaco come vi ho fatto sentire ieri sera di una persona che ha avuto un aborto sentire sentire ecco è l'abbaiare di un cane l'abbaiare di un cane significa anche richiama l'attenzione grazie questa è la risposta che abbiamo avuto vedete ha richiamato l'attenzione è importante poi se percepisci il tuo caro in che parte del corpo lo senti di più tanti hanno detto il cuore quindi dovete fare un ritorno al cuore un ritorno all'emozione percepirvi ascoltarvi tanta gente ormai oggi ha paura di fare le cose con il cuore se ci si fa un complimento ci si pensa sempre che ci sia un secondo fine se una persona è gentile con noi ci pensa sempre che ci sia un secondo fine ma se in realtà non è così per solo perché la persona è buona quindi mettiamo sempre in dubbio siamo più socievoli amorevoli la gente ha bisogno di sorrisi l'aldilà darà sempre un sorriso l'aldilà non darà mai parole di sconforto richiami darà consigli su cosa potreste fare ma non vi dirà mai cosa fare però deve essere sempre fatta con il cuore dovete metterci il cuore in ogni azione che fate io ai miei allievi insegno se dieci persone preparano un piatto di pasta state sicuri che tutti i dieci piatti di pasta uguali stessi ingredienti stessi pesi avranno sapori diversi c'è quello che ci mette il cuore e lo fa state tranquilli state sicuri che avrà un sapore diverso ci mettiamo un po' del nostro quindi in ogni piccola azione che facciamo anche nel semplice chiedere un gesto è importante inserire questa parte il cuore la pelle è importante la pelle d'oca i brividi il freddo sono sudorazione sono certo è logico se non avete male al braccio e male al petto dicono questo non è un sintomo di un contatto ma è un sintomo di un infarto però quello che vi voglio dire è che ci sono tante cose anche i famosi ronzii delle orecchie i ronzii delle orecchie e alcuni simili come che non sono gli acopeni però alcuni simili sono importanti perché c'è come uno sbalzo di pressione nell'ambiente che avviene ed è come se qualcosa qualcuno stesse comunicando è un segno di presenza anche questo interessante quasi finito un minuto hai mai visto quella coda nell'occhio qualcosa di sfuggita 63% ha detto sì però succede una cosa interessante quando noi vediamo qualcosa con la coda dell'occhio nel momento in cui riconosciamo che c'è qualcosa con la coda dell'occhio si mette in moto si innesca la parte razionale e sparisce ok perché entra in parte chi vuole imparare la scrittura tante volte il problema che si trova davanti è ma è frutto mio l'ho scritto io o l'ho scritto qualcun altro il miglior segreto per capire se state scrivendo voi o no è quando avete scritto tutta la pagina chiudete il quaderno andate via se non vi ricordate quello che avete scritto c'è da porsi una domanda se scrivete su un foglio cominciate a praticare la scrittura ispirata ok il segreto per capire se è frutto tuo o no è se tu non ti ricordi quello che hai scritto significa che qualcosa ha tentato una connessione dopo logicamente va investigata va studiata va lavorata ma va sperimentata pensate che il vostro caro nell'aldilà voglio comunicare con voi quasi tutti hanno detto sì come chiedere un segno semplicemente potete scriverlo su un foglio di carta potete verbalizzarlo parlate verbalizzatelo ditelo io nei contatti di metafonia faccio parlare la persona il medium fa il lavoro che parla lui e la metafonia è la persona che ho davanti che parla deve verbalizzare la richiesta avere la capacità di chiedere perché nelle vibrazioni della voce di una mamma di un marito di una moglie c'è l'amore per la persona che gli manca e quella vibrazione che si mette nell'ambiente è importante per ottenere dei buoni risultati anche nei pensieri comunque si può pensare con amore senza per forza dire a questo punto ci mettiamo in attesa una volta che abbiamo chiesto il nostro segno ok quindi può essere un manifesto un'attenzione sulla strada su qualsiasi altra cosa questa è la frase di Mahatma Gandhi che dice prendi un sorriso regalalo a chi non l'ha mai avuto prendi un raggio di sole e fallo volare là dove regna la notte scopri una sorgente e fa bagnare chi vive nel fango prendi una lacrima e passala sul volto di chi non ha mai pianto prendi il coraggio mettilo nell'animo di chi non sa lottare scopri la vita raccontala a chi non sa capirla prendi la speranza e vivi nella sua luce prendi la bontà e donala a chi non sa donare scopri l'amore e fallo conoscere al mondo grazie 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 a tutti grazie a tutti